Signorina, spero che rimarrete contenta. La nostra cucina è rinomata. Che sono questi favoritismi? Perché servite prima lei? Ha ragione, Rosy. Bisogna dare la prendenza all'età. Stupida! Che roba è? Poga con peperoni. Chi ve l'ha ordinata? L'ordinazione l'ha fatta a vostro figlio. Non è mio figlio. Vostro marito. Non è mio marito. Vostro fratello. Non ho fratelli. Beh, non mi direte che sia vostro padre, no? Vi ho portato un po' di senape, se l'aggradite. Ah, molto gentile, grazie. E un pezzo di torta. Con le mandorle, è la mia passione. Squisita, veramente squisita questa colazione. Grazie. Non volete accomodarvi? Non si può. Al, chi è? Sono io, Alice. L'ha fatta a Gim. Il vostro fidanzato? Oh no, io non ho fidanzato. Proprio no? Mi ha anche un tantino innamorata. Che bella manina. Vostre parenti, le due signore che sono arrivate con voi? Parenti? Ah sì, una è mia sorella, Dorothy. L'altra è la zia Rosalia. Dorothy, che bel nome. Anche il vostro è molto bello. Come vi chiamate? Alice. Alice.